Alla data odierna non siamo più al 28, al 27, al 26 di febbraio quando alcuni di noi avevano qualche dubbio. Oggi siamo in una guerra e la dobbiamo combattere tutti allo stesso modo. Noi da una parte in ospedale siamo a cercare di portare fuori più persone possibili da questa grave infezione, ma queste persone che stanno così vicine non hanno capito una cosa, che questo virus, quello che lo differenzia dai virus simili del passato che hanno dato anche altre pandemie, è la contagiosità. Gli altri virus del passato al massimo per ogni infetto ce n'era uno contagiato, per questo virus per ogni infetto ce ne possono essere tre o quattro, per cui quel crocchio di persone che abbiamo visto in quel vicolo di Napoli, non è detto che tra una settimana, dieci giorni, quelle persone che erano intorno, magari uno che era sintomatico, possono diventare poi sintomatici con dei quadri molto gravi. Per cui finché non c'è la percezione da parte della gente di quanto è grave questo problema. Le faccio vedere.